E' bello a tutti ragazzi, come vi faccio con l'agri palla? Siamo arrivati in questo nuovissimo video, oggi il video per partita di Elas Verona Torino che si giocherà domani, domenica 9 maggio, al Marco Antonio Ventegodi di Verona la partita che vale per la 35esima giornata di questa serie a team siamo praticamente al termine, al Torino si manca una giornata in più ma la sostanza è sempre quella, una partita che poi sarà contro la Lazio quindi in cui difficilmente riesceva a portare anche a casa un solo punto questa è una partita che deciderà molte molte cose, una partita importante ritornano per fortuna Mandragora e Simone Verdi che era stato diffidato e poi squalificato per il giallo ottenuto contro il Parma e Mandragora ha ricevuto, anzi contro il Napoli e Mandragora invece ha munito due volte nello stesso match quindi è espulso sempre contro il Napoli e questa è la portata dell'espulsione alla squalifica per una giornata tornano entrambi, questa è sicuramente una buona notizia e io andrei subito a prendere un attimo il calendario di questa giornata perché sì, analizzeremo sicuramente la nostra partita e le probabili formazioni come sempre ma anche parleremo in questo video di che cosa potrebbe succedere nelle varie diverse combinazioni di risultati che potrebbero esserci fra le squadre in lotta per la salvezza assieme a noi allora, in questa giornata di Serie A Team le squadre, sostanzialmente le state già quelle un po' a rischio sono lo Spezia che per esempio giocherà oggi stesso in cui voi vedete il video la partita del Spezia sarà già iniziata perché gioca oggi alle 15 in casa col Napoli quindi speriamo, io ora sto registrando di sabato mattina per cui non so ancora quanto abbiano fatto o quanto stiano facendo ma speriamo ovviamente nel Napoli e oggi di partita ci sarà solo questa di importante da seguire per noi domani inizierà il clu perché alla mezza ci sarà Genoa Sassuolo Sassuolo che deve battere il Genoa per provare a rallentare anche il Grifone ma l'importante sono quelle dietro noi giocheremo alle 15 col Verona e nel contempo ci sarà Palma-Atalanta sì, ma nel contempo ci sarà anche Benevento-Cagliari quindi mi raccomando dovete esserci in live per la Carona Chiesa della Sverona Torino ma anche per la diretta gol delle partite di Palma-Atalanta e Benevento-Cagliari, partita la prima importante per la zona Champions per quanto riguarda l'Atalanta in quanto il Palma è già retrocesso in big grazie alla nostra vittoria nell'ultima giornata e poi Benevento-Cagliari e quella sì che è una partita veramente importante forse il big match dal punto di vista della salvezza di questa giornata poi ci sarà il 18 Roma-Cartone e Juve-Milan alle 20.45 la Fiorentina mi ha dimenticato di vivere lo gioca stasera alle 20.45 in casa con la Lazio anche quella partita importante ragazzi, cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata? diciamo che una vittoria del Torino un'ipotetica, ipotizziamo una vittoria del Torino che poi non è per niente semplice ma ipotizziamo arrivi una vittoria da parte del Torino il Torino arriverebbe a quota 37 punti scavalcando Fiorentina in caso di vittoria della Lazio e Genoa in casa di vittoria del Sassuolo quindi passeremo davanti a tutti in caso il Benevento vinca con il Cagliari ragazzi, il Benevento arriverebbe a 34 punti i punti che abbiamo attualmente noi e che attualmente lo spezia scavalcherebbe il Cagliari lo rimanderebbe in retrocessione e avrebbe a meno uno dalla Fiorentina in caso ovviamente la Fiorentina perda con la Lazio cioè capite questa serie di combinazioni una vittoria del Benevento in questo momento potrebbe cambiare veramente tutto noi non possiamo sbagliare a questa partita perché questa partita in caso il Benevento vinca col Cagliari sarebbe veramente, veramente pessimo perderla perché il Benevento ci raggiungerebbe a 34 punti il Cagliari ha un calendario non così difficile l'abbiamo già visto nelle altre giornate non ha un calendario così difficile il Cagliari quindi lì saremo potenzialmente a rischio io ragazzi continuo a pensare che non andrà nel Benevento nel Cagliari e nel Torino in Serie B ma continuo a pensare che ci andrà lo Spezia perché non è un calendario facile secondo me vedrete ragazzi che alla fine ci andrà lo Spezia questa è la mia ipotesi già da diverso tempo però ragazzi non possiamo assolutamente sbagliare questa valida perché è importantissima proprio per questo io andrei a prendere le probabili formazioni del match appunto fatta io nella Sverona quindi via dettaglio ok ragazzi le probabili formazioni allora il Verona di Ivan Juric dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 in porta dovrebbe schierare Pandur anziché Silvestri questa è la novità si pensa addirittura un po' quasi di turnover per il Verona che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato ha fatto comunque un fantastico campionato arrivando nella parte sinistra della classifica che è già questo un ottimo obiettivo Davidovic Magnani di Marche Faraoni in difesa Sturaro Barak Lazovic a centro campo e poi dovrebbe esserci Zaccagni dietro le due punte Salcedo e Lasagna o comunque qualcosa di simile di certo bisogna stare attenti perché poi c'è anche un Kalinic in panchina scalpitante deve ancora trovare il suo secondo gol con la maglia del Verona ne ha trovato solo uno è stato il giocatore più pagato quindi bisogna stare attenti il Torino invece con il classico 3-5-2 dovrebbe schierare sì ovviamente Siriguimporta Itsun Kulubremer confermato quindi anche in teoria la difesa dovrebbe tornare a titolare nonostante l'ottima prestazione di Vivo da Wilfred Zingo Rinconne Verdi ovviamente Mezzale e Mandragora in cabina di regia quindi torna anche Verdi titolare come anche Mandragora Ansaldi non stiamo neanche a dirlo ovviamente sulla sinistra e poi ragazzi ovviamente non stiamo neanche a dirlo in attacco il Gallo Belotti e Simone Zazza si pensa attualmente sta vincendo il ballottaggio lui almeno secondo diversi siti ma attenzione perché c'è anche Sanabria che ovviamente se la gioca nel ballottaggio con Zazza ed è così in realtà ogni giornata attualmente forse Sanabria viene da un momento positivo poi seguito da un momento negativo perché sono già diverse partite che non rende più di tanto quindi attenzione a un possibile ritorno con la maglia da titolare di Simone Zazza che potrebbe voler aiutare i Granata nella partita di domani col Verona ragazzi cosa ne penso di questa formazione allora penso che non ci siano dubbi secondo me comunque nonostante l'ottima prestazione di Vigoda e ne abbiamo parlato nel video post partita che vi lascio le post partite di Torino Parma ve lo lascio nelle schede Singo deve tornare a titolare perché ha quel qualcosa in più e l'abbiamo notato perché se Vigoda ti fa una partita buona mentre Singo nel complesso ti fa sempre la buona partita con la sufficienza più che piena e che a volte ti può portare anche a fare dei gol con delle sue cavalcate sulla destra ragazzi è un giocatore molto veloce molto molto forte secondo me è giusto che torni Singo titolare e spero sia così quanto riguarda Zazza capisco la possibilità che lui torni titolare perché appunto Sanalba come ho detto non sta rendendo stra bene nelle ultime partite e quindi potrebbe essere messo in panchina sicuramente poi potrebbe esserci il cambio come è stato con Zazza che è entrato già sempre nelle partite anche a volte al posto di un Gallo Belotti a volte giudicato un po' stanco da Nicola e quindi fatto riposare ricordiamo che adesso poi dopo finito il campionato ci saranno subito gli europei e poi farò un video dedicato in cui vi spiegherò bene tutto quello che riguarda il mio programma per gli europei perché ho fatto delle piccole modifiche non farò le live ma farò comunque dei contenuti importanti quindi iscrivetevi e attivate la campanina se ancora non l'avete fatto per restare sintonizzati penso che per il resto centrocampo buonissimo Torna Mandraga era ottimo Verdi mi fa anche piacere che torni lui perché comunque stava rendendo bene nell'ultimo match Rincon ragazzi sempre il solito giocatore ti deve fare il fallo a metà campo per mai conto piedi quello deve fare Rincon e basta perché altro non sa fare la difesa ovviamente confermata Sirigu importa giusto così le gerarchie ovviamente sono chiare anche dal punto di vista del contratto per quanto preferisca attualmente Milinko Vissavic che sta rendendo meglio rispetto cioè se mi aveste chiesto inizio anno non avevo neanche cioè a mani basse Sirigu perché l'anno scorso ci ha salvato sostanzialmente lui con i suoi miracoli quest'anno non sta facendo più o meno la stessa cosa ne ha fatti due o tre giusto di miracoli sì decisivi ma due o tre e Milinkovic comunque ha dato continuità nelle partite in cui è giocato secondo me attualmente lo preferisco ma è giusto perché le gerarchie appunto come ha detto Nicola sono chiare quindi Sirigu titolare detto ciao ragazzi io direi che il video è già durato abbastanza e noi possiamo salutarci vi invito a iscrivervi al canale e alla campanella se ancora non avete fatto per restare aggiornati sulle notifiche il tasto rosso qua sotto vi costa veramente un attimo seguimi su Instagram F259 tratto basso official c'è anche il link in descrizione così è stato aggiornati su tutto quello che riguarda il canale e le notizie del calcio mi raccomando andate a seguirmi anche lì vi costa veramente un secondo stessa cosa per quanto riguarda lasciare un bel like a questo video importantissimo per farlo salire in classifiche e farlo vedere a più persone condividetelo ovunque a parenti, amici a chi volete voi perché mi fa sempre piacere avere persone che guardano i miei video più siamo meglio è e io vi aspetto domani in live mi raccomando ragazzi dovete esserci dovete esserci numerosi perché è una valida decisiva questa forse la più decisiva fra le ultime poi dipende da come si metterà la classifica vediamo se metta fuoco la webcam ok e niente ragazzi direi che ci salutiamo da F259 è tutto noi ci vediamo domani in live bella ragazzi ciao